Snydero è un brand che ormai da 70 anni, anche più di 70 anni fa le cucine. La cucina che vedete qui da me è disegnata da Pininfarina. Questa cucina qua è un restyling molto bello, di una cucina inventata dal designer che è stato designer anche di macchine come Ferrari più di 20 anni fa. La caratteristica principale, se volete, sono le curve, sono le forme. Pininfarina, la società, è una società di designer che disegna di tutto, sono partiti dalle auto ma poi disegnano un po' tutte le cose e noi siamo entrati in collaborazione con loro per un progetto. Abbiamo messo insieme il nostro know-how, la nostra capacità di fare e le loro idee. Da questa collaborazione è nato questo progetto. Questa cucina oggi è la più venduta nelle nostre esportazioni, proprio in questo colore bianco che vedete qua davanti a me. Le forme sono molto particolari, si può avere in varie finiture. Questa è una cucina laccata opaca, molto molto bella. C'è una cucina proprio giusta, uno la può far durare tanti anni a casa sua.